Cristian, intanto come nasce l'idea di venire al Cortona Camucia? L'idea di venire al Cortona Camucia è nata dal progetto che mi ha presentato la società, è il mister che mi ha subito affascinato e l'ambiente è storico perché il Cortona in zona è una società ottima, ha una grande tradizione e mi ha colpito questo insomma. Alcuni già li conoscevo, conoscevo David Veruzzi, Gennaro Tauria che ci ho giocato insieme, sia a Foiano sia a Bettolle che sono amici ottimi, alcuni conoscevo come Romani, Franchi, Tamariello, Bottonaro, persone che imparerò meglio a conoscere che andando avanti col tempo. Il tuo è un ruolo fondamentale negli schemi di gioco, difensore centrale dove devi chiudere gli spazi e far ripartire l'azione? Sì, è un ruolo ostico perché se sbagli ti fanno gol, è vero c'è il portiere però diciamo che è un ruolo fondamentale che è difficile sbagliare. Del resto se andiamo a vedere i tuoi trascorsi alle spalle c'hai una bella esperienza? Sì, ho giocato a Foiano, alla Bazzaccio Pugno ho maturato la prima esperienza di prima squadra, sono stato ad Ambra, a Bettolle e diciamo che sono 5-6 anni che gioco in prima squadra e bisogna continuare, per continuare insieme un sogno. Sì, grazie. Grazie.